Ben trovati al nostro appuntamento con TBD Agenda, vediamo qualche proposta per la giornata di sabato 5 maggio. Oggi vi presento due iniziative, cominciamo con la prima. Il Lions Club Feltre Ost organizza per sabato 5 maggio alle ore 18 un concerto musicale al Teatro La Sena di Feltre, in occasione del gemellaggio che vede uniti da quasi 50 anni Feltre con il club di Franz Freising della Germania. Il maestro Manolo da Lord suonerà l'antico pianoforte appartenuto a Don Giulio Perotto e restaurato dal Lions Club Feltre Ost come dono al teatro. Ad accompagnare ci sarà il soprano Sara Cecchin e il quintetto cameristico di ottoni e percussioni, primiero Dolomiti Brass. Sabato 5 maggio rintorna l'antico appuntamento con la Professione de Santa Cross che coinvolge tutte le parrocchie dalla Valle del Biois con Cencienighe e San Tommaso, un'iniziativa che propone un'antica festa, un'antica usanza di fede che risale al 1600. E noi abbiamo concluso così anche l'appuntamento odierno per TBD Agenda. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.